ok bello a tutti ragazzi sono Antonio Lario e oggi siamo in un video vlog baby allora prima di iniziare questo video vi devo spiegare una cosa quindi adesso mettiamo una cosa parti io chieda mi devo spiegare una cosa ovviamente io oggi ho tirato fuori al cielo per vedere e la leggenda è una che è più lunga luce e più si sa con i ragazzi ma io 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 mi faccio perché non sono proprio io 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 un altro tipo 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 che Grazie.